Saluto e ringrazio il professor Fabio Finotti, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, collegato con noi da Park Avenue. Salve direttore! Buongiorno, grazie per averci ospitato, un saluto da New York. Siamo veramente felici di avervi, almeno virtualmente, qui all'Istituto Italiano di Cultura. In attesa di averla virtualmente nel nostro studio abbiamo deciso di ospitarla con un collegamento video perché, sinceramente, quando siamo stati da lei a New York, quello che ci ha colpito maggiormente è stato il suo atteggiamento da vero padrone di casa e quindi ci tenevamo a far vedere a tutti la sua casa new yorkese, magari raccontando i piccoli cambiamenti, anche strutturali, e presentando i prossimi eventi in presenza. Allora, intanto, grazie per aver colto questa attenzione verso gli istituti di cultura come una casa. Io l'ho concepita, mi sono subito domandato, se fosse casa mia cosa farei? Perché deve essere un luogo, diciamo così, decoroso, elegante e di grande accoglienza. E quindi da questo punto di vista stiamo poi immaginando nuovi progetti come liberare il piano terra in modo da dare accesso al cortile e creare un bookshop e un caffè italiano che faccia degli istituti di cultura un destination point anche al di là degli eventi che si creano e anche durante il sabato e la domenica. Per quello che riguarda poi gli eventi, ne abbiamo uno bellissimo qui dedicato ad Assisi in questi giorni e dedicato al modo e racconto di come tanti ebrei sono stati salvati ad Assisi sia da persone private, da singoli cittadini, una rete che coinvolgeva per esempio anche Bartoli, il grande corridore, il grande ciclista, sia dal Vescovado che ha ospitato molti ebrei durante il periodo delle leggi razziali nei sotterranei dell'Arcivescovado. Ed è un tema splendido perché ci fa capire in un momento poi in cui l'Europa oggi è lacerata come in realtà il dialogo tra le diverse confessioni possa esistere e possa essere fondamentale. Altri eventi che avremo sarà una bellissima mostra dedicata alla luce nel cielo e nell'acqua della pittura italiana dall'Ottocento a oggi, un'altra mostra dedicata alla contemporaneità con Elisabetta Raso in collaborazione con Magazzino che è questa grandissima artista che lavora con la stoffa e poi verso la fine dell'anno un'installazione fatta da Canevari e da Alessandro Medis che è stato il curatore dell'ultima biennale di architettura dedicata al tema della sostenibilità, della rigenerazione e della possibilità di rivedere le stelle al di là anche dello smog che ogni tanto ci copre la vista, ci copre il cielo e ci offusca le giornate. Direttore, lei ha gestito la pandemia in maniera brillante grazie alle stanze italiane. Qual è il pubblico di queste stanze e il loro futuro in post-pandemia? Le stanze italiane non sono quelle reali dell'edificio ovviamente ma è un sito che noi abbiamo creato proprio immaginando di creare un edificio virtuale e immaginando di fare quello che gli italiani hanno sempre fatto, cioè dare un ordine, creare una specie, strutturare lo spazio. Anche internet è uno spazio che va strutturato, quindi abbiamo creato questo edificio dove ogni stanza è dedicata a un particolare tema, c'è, non lo so, dalla cucina alla galleria all'orto che è dedicata al tema del giardino e via dicendo. Allora, oggi finalmente si può ritornare ad avere eventi in presenza, ma il pubblico delle stanze italiane dove abbiamo pubblicato molti eventi, molte interviste, mostre virtuali, concerti e vi dicendo, si è talmente allargato e ha coperto uno spazio che non è solamente legato a New York e neanche solamente all'America, ma va oltre gli Stati Uniti che abbiamo deciso sempre di fare degli eventi ibridi, cioè in presenza ma che siano rappresentati anche nelle stanze. Uno di questi eventi che ci sarà in giugno sarà un festival della narrativa italiana dal 6 all'8 giugno dove arriveranno da Michela Murgia, Veronesi, Elisabetta Gasi, tanti grandi narratori e scrittori italiani contemporanei, ecco in quel caso noi avremo l'evento in presenza ma anche uno streaming e poi una registrazione che permetterà di vederlo anche all'interno delle stanze. Direttore, adesso che la pandemia sembra finalmente essere passata e quindi ce la troviamo davvero alle spalle. Le stanze fisiche della cultura italiana qui a New York saranno aperte soltanto nella sede di Park Avenue oppure avremo l'opportunità di poter accedere a queste stanze anche in altri posti della città? Insomma avete un progetto al riguardo? Bravissima, che bella domanda e tengo a precisare che non abbiamo concordato le domande perché questa sembra fatta apposta, proprio in occasione di questo evento dedicato alla narrativa italiana io avevo l'idea di far uscire l'istituto di cultura dai muri dell'istituto, cioè di farlo vivere all'interno della città di New York. Quindi avremo un evento, una giornata che si terrà alla libreria Rizzoli, un'altra giornata che si terrà al cima al Center for Italian Modern Art. Per cui l'istituto di cultura viaggia, per così dire, non solo a New York ma può viaggiare anche al di fuori, a Brooklyn, in altre città come Philadelphia e quindi possono essere i ciaventi che non coincidono con le mura fisiche dell'istituto stesso. Professore, che ruolo può ricoprire la cultura nel fenomeno del ritorno alle radici? Ecco, allora questo è un tema bellissimo perché oggi per Turismo delle Radici si intende qualcosa di diverso da quello a cui si pensava qualche tempo fa, che era semplicemente il ritorno dell'emigrante o del figlio, nipote dell'emigrante al proprio paese. Questo rimane, è vero, si possono cercare le radici di una storia familiare. Però radici oggi è un termine più ampio, le radici possono essere anche radici culturali, per cui si va al di là del ritorno nel proprio paese, ma si cerca per esempio, per uno che fa storia dell'arte, si cercano le radici che rendono l'arte italiana fondamentale per l'arte mondiale. Oppure può essere anche il ritorno di qualcuno che italiano non è, ma è italico, come direbbe Bassetti, verso un'identità che lui si è costruita, perché un'identità culturale e non un'identità biologica. Per cui il turismo delle radici è qualcosa di molto più ricco e di più complesso. Non basta offrire il viaggio di ritorno al paese, bisogna integrarlo con un'offerta culturale, un'offerta anche di relazioni con altri luoghi e allora diventa un strumento importantissimo per lanciare, per sostenere questa fetta di economia italiana e il turismo adesso, che è fondamentale e che adesso, stavo dicendo, ha finalmente un ministero. Io sono appena tornato dall'incontro con il ministro del turismo Garavaglia, che mi sembra molto motivato e molto intenzionato, a creare un sistema che comprenda anche altri ministeri per potenziare questo settore fondamentale, perché risulta che noi siamo i primi per click, noi italiani, ma siamo solo i quinti come numero di turisti, quindi c'è un gap da colmare e tanto lavoro da fare. Professor Finotti, noi la ringraziamo per la sua disponibilità e soprattutto per l'enorme contributo che quotidianamente dà alla diffusione della cultura italiana. La salutiamo con l'impegno che presto sarà ospite nel nostro studio in versione proprio virtual remote. Allora, io devo ringraziare Patrimonio Italiano per il lavoro che sta facendo splendido e devo dire lo sta facendo anche in modo molto moderno, perché fondamentale non è solamente il contenuto, noi ci imponiamo questo problema, come comunicare in modo altrettanto efficace, un contenuto importante che abbiamo. Voi state facendo un lavoro di comunicazione eccellente, quindi congratulazioni e grazie per avermi ospitato. Grazie mille direttore!